Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di Calabria News 24. Ascoltiamo insieme i principali titoli del nostro telegiornale. Sanità questa mattina protesta davanti l'ASP di Cosenza. Reggio Calabria si lavora per le sorti del Corap. Anas Calabria in arrivo nuove segnaletiche e pavimentazione. Cosenza, Alpezzullo, Alvia, i laboratori, CAF e Startup. E lo avete sentito, apriamo con la sanità. L'assemblea di Sotamoli Tutti ha organizzato una manifestazione davanti l'ASP di Cosenza contro la situazione sanitaria calabrese. Siete drammatiche del tipo per prenotare una visita, i tempi d'attesa vanno anche ad essere lunghi diversi mesi. L'altro giorno, ad esempio, a Catanzaro una ragazza di 15 anni che doveva prenotare una visita per un nodolo al Sena è stata rimandata al 2021. Nei mesi scorsi abbiamo verificato la chiusura dei due punti nascita di Cetraro e di Soverato. Quindi noi siamo qua oggi a denunciare che questa situazione è diventata drammatica ed intollerante, non possiamo più aspettare. È necessario determinare una controtendenza rispetto a questo stato di cose. Il nostro obiettivo oggi è quello di andare a parlare con la direzione sanitaria dell'ASP di Cosenza per ribadire che è necessario sviluppare un paradigma rispetto alla questione della sanità che vada oltre le logiche aziendali perché non è possibile che un servizio centrale per la vita di un'intera comunità sia sottoposto a dei vincoli ragionieristici, sottoposto a pieno di rientro e alla questione del rientro dei debiti. Quindi noi siamo qua a denunciare appunto questo stato di cose e a ribadire che la sanità deve essere oltre queste logiche del profitto. A Reggio Calabria, in merito alla vertenza Corap, il Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive è intervenuto anche il Consiglio regionale. La situazione del Corap, il Consorzio regionale per le attività produttive potrebbe essere arrivata ad una svolta. In Commissione regionale si cercherà una soluzione definitiva e l'obiettivo è il recupero del Consorzio e la tutela dei posti di lavoro. Lunedì la Commissione si riunisce e definiamo il percorso da fare per recuperare il Corap e per cercare di tenere tutti i dipendenti all'interno del nuovo progetto che la Regione sta preparando. Spero che si concluda lunedì con un voto all'unanimità in Commissione. C'è una discussione di tutti gli attori principali. La minoranza sta lavorando e ha proposto un testo. Stiamo facendo la sintesi del testo della maggioranza con il testo della minoranza per arrivare a una condivisione totale di questo nuovo Corap che possa in qualche modo garantire prima di tutto i dipendenti e poi possa proseguire il lavoro di organizzazione delle ASE e delle zone industrializzate che speriamo possa dare un contributo veramente alla crescita della Calabria. Nuove segnaletiche per le strade calabresi. L'ANAS ha affidato alle imprese i lavori per il miglioramento della segnaletica stradale orizzontale della pavimentazione. La spesa complessiva ammonta a 20 milioni di euro. Prosegue il piano di ANAS Basta Buche avviato nel dicembre del 2015 e giunto ad un investimento complessivo di oltre 2 miliardi di euro sulla rete stradale di competenza nel territorio nazionale. Per quanto riguarda la Calabria sono 5 le gare d'appalto al valore complessivo di 20 milioni di euro per lavori di manutenzione su tutte le strade statali. L'obiettivo è quello di rendere le strade più sicure e gli spostamenti più agevoli per gli automobilisti. Gli appalti da 5 milioni ciascuno riguardano infatti in particolare il risanamento della pavimentazione e il rifacimento della segnaletica orizzontale. L'affidamento è attivato mediante la procedura di accordo quadro di durata quadriennale dunque esiste la possibilità di programmare ed eseguire lavori con tempestività nel momento in cui si palesa un bisogno senza una nuova gara d'appalto. Le imprese a giudicatare dell'appalto sono traete la provincia di Catanzaro e una del Cosentino. I lavori inizieranno a breve. A Corigliano Rossano la prima campagna di studio per la riqualificazione del centro storico. La presentazione è avvenuta nella Sala degli Specchi del Castello di Corigliano. La Sala degli Specchi del Castello Ducale di Corigliano ha ospitato la presentazione di Riconoscere Corigliano, la prima campagna di studio per la conservazione e la riqualificazione del centro storico. La collaborazione nata fra l'Associazione Bauci e il Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Unicar vuole rimettere al centro della riflessione la città di Corigliano Rossano e il ruolo dei centri storici delle due aree, permettendo la riappropriazione degli spazi da parte della cittadinanza e la rigenerazione urbana in aree di irreversibile spopolamento. Abbiamo stilato un protocollo di intesa per una campagna studi che veda la conoscenza, ma soprattutto il riconoscere quei valori della città che si sono persi. L'identità di questa città, l'identità di questa società che ha vissuto il luogo è di conservarli. Questa relazione tra l'Associazione Bauci, l'università vuole essere proprio aderente a questo territorio, quindi conoscere per conservare ed eventualmente consapevolmente riqualificare questo centro storico. L'evento ha visto la partecipazione degli studenti del corso di restauro architettonico della Facoltà di Ingegneria e dell'Architettura dell'Università della Calabria, al lavoro per analizzare e studiare l'aria intorno al castello Ducale in funzione del restauro, del recupero e nuova progettualità di servizi per la città. Questa fruttuosissima collaborazione che abbiamo col Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Unical, che ci permette di portare qui degli studenti che studieranno gran parte del fondaco, quindi dell'anello antistante del castello, che è un luogo pregiato di manufatti, palazzi di un certo valore architettonico. Possiamo informare quindi la cittadinanza rispetto alla necessaria conservazione di questi beni perché sono parte della nostra identità e quindi ci aspettiamo che chiaramente informando i cittadini si possa immaginare e pensare che un giorno la città antica possa rivivere in una maniera differente rispetto alle condizioni in cui versa oggi. L'obiettivo che ci siamo posti come BAUC è stato innanzitutto quello di rendere utili e fruibili tutti i documenti provenienti dall'archivio Ermanno e Mario Candido. Lo scopo è appunto quello comunque di mettere a disposizione questi documenti anche per l'università ed ecco che quindi è venuta l'idea di integrare questi documenti e renderli anche attuali per quanto riguarda una destinazione ben precisa, cioè quella della riqualificazione del centro scorico il cui obiettivo è appunto di rendere questi documenti attuali, contestuali, contemporanei, tali da poter risolvere una serie di criticità che danno oggi problemi su quelle che può essere una riqualificazione e una riabilità del centro storico intesa a 360 gradi. Il mondo scolastico di Cosenza è sempre più smart. All'Istituto Pezzullo si sono inaugurati i laboratori CAF e start-up, non solo per indirizzare gli studenti al mondo del lavoro ma per fornire un vero e proprio servizio al territorio dentro e fuori le mura scolastiche. L'Istituto Scolastico Pezzullo di Cosenza si apre al territorio con un nuovo servizio, un'idea imprenditoriale che mira a coinvolgere anche gli studenti come ci ha spiegato la dirigente scolastica Rosita Paradiso. Un servizio al territorio, naturalmente un servizio all'interno e all'esterno della scuola, all'interno perché i ragazzi, soprattutto gli alunni dell'indirizzo AFM e amministrazione finanze e marketing, avranno la possibilità di sperimentare sul campo a livello laboratoriale quelle che sono le tecniche per un'assistenza fiscale corretta e adeguata. Lavoreranno all'interno codiubati dai docenti specialisti e lavoreremo anche all'esterno in qualità di servizio sul territorio per le famiglie che avranno bisogno di un'assistenza fiscale gratuita, assolutamente gratuita, che verrà come momento di alternanza scuola-lavoro per i nostri studenti. L'Istituto Pezzullo è un punto di riferimento per il territorio cosentino, proprio perché è stato capace negli anni di costruire un rapporto con la comunità, con il servizio che verrà offerto alle famiglie, secondo me ci sarà una vera e propria integrazione del tessuto sociale all'interno della scuola. Nel contempo una occasione per i ragazzi di acquisire anche l'etica del lavoro facendo. Questa era l'ultima notizia, io vi ricordo come sempre prima di salutarci di consultare il nostro sito www.calabrianews24.com. Grazie per averci seguito e a tutti voi una buona serata. Grazie a tutti.